Salve, sono Daniele Maras, funzionario archeologo della Soprintendenza per l'Etruria Meridionale e uno dei curatori della mostra Colori degli Etruschi. Oltre al materiale recuperato dai carabinieri tutela patrimonio culturale e a quello tornato in Italia grazie agli accordi internazionali, sono presenti in mostra anche alcuni gruppi di lastre dipinte ritrovati a Cerveteri nel corso di scavi archeologici regolari. Per una singolare coincidenza, tutti gli esemplari scoperti in questo modo sono stati trovati in posizione secondaria, riutilizzati per decorare tombe, ovvero gettati nel riempimento di vecchi pozzi e cisterne in disuso. Quest'ultimo è stato ad esempio il destino di un gruppo di lastre frammentarie ritrovate nel 1940 in località Campetti, al margine della moderna città di Cerveteri, durante lavori di sterro per la costruzione di un campo sportivo. Come si può immaginare, le condizioni di gecitura non erano le migliori e inoltre a quell'epoca infuriava ancora la Seconda Guerra Mondiale. Ci vollero ben 17 anni prima che fosse completato il restauro. Le scene dipinte furono ricostruite da un puzzle di piccoli frammenti che rendono ancora oggi difficile apprezzare la qualità delle immagini. Si tratta delle più antiche lastre dipinte della produzione ceretana, databili poco dopo la metà del VI secolo a.C. Nelle pitture si riconoscono alcune scene mitologiche, un probabile giudizio di Paride con il dio Hermes a sinistra che presenta Hera e Afrodite, Atena e Paride erano forse raffigurati su altre lastre. Heracle è a banchetto presso il centauro Folo, come è stato suggerito da una recente ipotesi. Almeno tre gorgoni in corsa su due diverse lastre. Solo queste ultime sono esposte in mostra alla centrale Montemartini, a conclusione della sezione mitologica. Si tratta infatti con certezza della raffigurazione della storia di Perseo, il grande eroe argivo famoso per aver decapitato Medusa e trasformato la testa del mostro in un'arma in grado di pietrificare qualsiasi nemico. La scena era rappresentata su almeno quattro lastre dipinte, delle quali si sono conservate solo le due centrali. A sinistra Medusa sta per essere decapitata. Si intravede la spada di Perseo che spunta dal margine della lastra e mira decisa verso il collo della creatura mostruosa. La testa è enorme, una maschera grottesca con la bocca spalancata, da cui fuoriescono le zanne e penzola la lingua. Una corona di serpenti la circonda e lo sguardo è rivolto verso lo spettatore, come se Medusa intendesse trasformarlo in pietra con le sue ultime forze. A sinistra la figura di Perseo rivolgeva probabilmente la testa all'indietro per non rischiare di incrociare gli occhi con la sua nemica. Dal lato opposto invece le altre due gorgoni, sorelle di Medusa, fuggono a gambe levate di fronte alla violenza dell'eroe protetto dalla dea Atena che assiste la scena sull'ultima lastra a destra. Agli occhi delle gorgoni infatti il mostro omicida è Perseo che le ha attaccate senza pietà. L'anonimo artista etrusco, cosciente della tragedia familiare in atto, ha voluto offrire un volto umano a queste creature che proprio nell'aspetto bestiale e repellente avevano la loro caratteristica principale. Come se ciò non bastasse, l'artista ha aggiunto un dettaglio che mai un greco avrebbe anche solo osato immaginare. Medusa stringe al petto due piccoli e le cui testoline si intravedono appena nei frammenti di terracotta dipinta. La gorgone è una madre e con il suo atto di eroismo Perseo sta rendendo orfani i suoi figli. Chi è il vero mostro allora? L'opera d'arte antica scuote le nostre certezze sulle storie del mito con una potenza poetica inusitata. Contrasta con la tragedia in atto la scena pacifica e gioiosa di un simposio dipinta nel piccolo freggio superiore e quasi interamente scomparsa che allude verosimilmente al luogo dove le lastre erano esposte la sala dei banchetti di una residenza aristocratica nella quale i miti erano raccontati per il divertimento e la formazione dei convenuti.